Buongiorno, benvenuti in questo video dove andremo a vedere come sostituire il copertone della vita. Perché è una cosa che se non vi è già successa sicuramente vi capiterà e sapere come sostituirlo è comunque un bene. Bene, cosa ci servirà oggi? Ci serviranno le chiavi per sostituire il copertone, ci servirà una pompa e la camera d'aria da sostituire se è furata e il copertone se lo andiamo sempre a sostituire. Come prima cosa bisogna sgonfiare la valvola. Adesso che abbiamo sgonfiato il nostro copertone possiamo prendere le nostre chiavi e iniziare a toglierlo. È consigliabile inserirne due all'interno. Se abbiamo la possibilità nelle nostre chiavi ne blocchiamo. Ne blocchiamo una sul raggio e l'altra la facciamo correre per il copertone. Ora che abbiamo inserito la chiave dentro il raggio possiamo muoverci liberamente con l'altra chiave. Facendo un bello sforzo, dipende in base del tipo di copertone, quanto nuovo è. Ok, arrivati a questo punto possiamo togliere la nostra camera d'aria. Abbiamo tolto la nostra camera d'aria e ci toccherà togliere il copertone, quello da sostituire. È molto semplice, dobbiamo tirarlo, riuscire un po' e dobbiamo toglierlo via semplicemente. Arrivati a questo punto che abbiamo tolto il nostro copertone da sostituire possiamo andare a fare della manutenzione ordinaria. Cioè andiamo a controllare il nostro paranipless che non si è rovinato e quindi il nipless che c'è nel cerchio ci va a tagliare la nostra camera d'aria. Oppure andiamo a controllare la nostra camera d'aria in caso la riutilizziamo se ha qualche buco, magari un piccolo buco che non si riesce a vedere. Per vedere se abbiamo qualche piccolo foro nella nostra camera d'aria ci basterà gonfiarla, sentire dove sta uscendo l'aria, se il foro è abbastanza grande. Se il foro invece è molto molto piccolo ci conviene inserirlo all'interno di una bacinella d'acqua dove fa le pollicine ci sarà un pochetto. Se abbiamo visto che il foro è piccolino e lo possiamo aggiustare sapete che si può comunque aggiustare. Se il foro è troppo grande invece dobbiamo gettare la camera d'aria e sostituirla. Prendiamo il nostro nuovo copertone, quello da andare a sostituire e soprattutto se nuovo sarà molto duro da inserire. Quindi cerchiamo di scaldarlo il più possibile prima di metterlo nel cerchio. Questo poi ci faciliterà l'inserimento all'interno del nostro cerchione. Adesso abbiamo il nostro copertone nuovo qua, prenderemo il nostro cerchio, ci converrà per inserirlo comunque dritto mettere il cerchio in una posizione che si corre normalmente, in sto caso così, imito la bici che sia messa in questa posizione, vado a prendermi il mio copertone e lo metto dritto in modo che le scanalature siano in senso anti-orario, cioè il senso che poi ci servirà a noi nella pedalata e andiamo ad inserirlo all'interno del nostro cerchio. Dopo aver inserito il nostro copertone all'interno possiamo prendere la nostra camera d'aria che è stata pompata giusto un filo e la andiamo ad inserire all'interno del nostro cerchio ovviamente partendo dalla valvola. E con calma la andiamo ad inserire all'interno del cerchio. Arrivati a questo punto che abbiamo inserito tutta la camera d'aria all'interno del nostro cerchio possiamo iniziare a mettere il copertone all'interno di tutto il cerchio. Ovviamente la prima parte sarà molto facile, dobbiamo sempre stare attenti che la camera d'aria all'interno entri bene all'interno del nostro cerchio e se facciamo fatica soprattutto nel pezzo finale utilizziamo le chiavette. Un consiglio per cercare di non utilizzare le chiavette sarà quello di piegare il cerchio così e cercare di spingere sempre il più possibile in giù il nostro copertone così che quando arriviamo alla fine abbiamo più superficie tirata su e quindi dovremmo essere un attimo facilitati a spingerlo all'interno. Ok adesso l'abbiamo pompato a circa 2 atmosfere e mezzo. Andiamo a sicuramente ha fatto qualche colpettino la camera d'aria all'interno ma è normale non allarmiamoci. Abbiamo qualche colpetto cerchiamo di capire se è stato messo dritto e quando vediamo che è messo bene possiamo dargli una pompata fatta bene a 7-8 atmosfere dipende dal tipo di copertone. Per vedere a quanto lo riusciamo a pompare al massimo ci basterà andare a leggere sul nostro copertone. Allora in questo caso il massimo sarà 8.3 bar quindi sappiamo che possiamo pomparlo al massimo fino a 8.3 bar e andiamo. Arrivati a questo punto abbiamo montato il nostro copertone. Se non siete comunque sicuri di aver fatto tutti i passaggi bene il giorno dopo o comunque se avete la possibilità dopo qualche ora vi converrà andare a controllare se lui è ancora su. però può capitare che la camera d'aria si infili al di sotto del copertone e nel momento in cui la andiamo a pompare non è inserita bene all'interno e si buca. Quindi nel dubbio, se siete dubbiosi dovete andare a controllare se il copertone è ancora vivo. Spero che questo video vi sia stato utile se avete qualche domanda fatela qui sotto nei commenti, mettete un bel like e ci vediamo alla prossima!